Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora iscrivetevi, condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete. Lunedì sera processo al campionato, domani commentiamo Atalanta-Lazio e Roma-Verona e poi lunedì ci dedichiamo al calcio a mercato, riparlando anche di Inter, se ci saranno novità di tutte le altre squadre, di tutto quello che trova e poi ci sarà anche la dipanata di Coppa Italia contro la Juventus, la semifinale d'andata. Allora Inter-Benevento, vince l'Inter, vince in larga sostanza. Che partita ho visto? Allora ho visto un Inter che schierando Eriksen in posizione di regia senza Brozovic, ho visto un centrocampo molto dinamico, un centrocampo fluido, un centrocampo che fa passare bene la palla, ho visto una difesa che tutto sommato non ha corso neanche un pericolo contro il Benevento, ho visto un Benevento che ha cambiato schema ad hoc per questa partita per due motivi secondo me, un po' per giocare speculare all'Inter e un po' per fare la squadra che viene a difendersi e a giocare di contropiede. Spesso l'Inter un po' queste cose le soffre, ma stasera non è stato il caso e ho visto anzi una squadra che proprio dal cambio di modulo io vedo di solito il Benevento gioca col 4-3-2-1 e stasera ho avuto proprio l'impressione di una squadra che col nuovo schema e con la difesa a tre non sapeva veramente che cosa farci, a parte Barba che per buona parte della partita ha avuto una buona marcatura su Lukaku, ma poi insomma il castello è durato veramente poco se pensiamo che già al settimo minuto con quella punizione di Eriksen e l'autogol l'Inter si era portata in vantaggio. Poi il Benevento ha cercato di continuare a fare la stessa partita che stava facendo sullo 0-0, cercando di contenere, l'Inter ho visto che quando era sull'1-0 secondo me ha sprecato diverse occasioni, specialmente con Lautaro ma anche con Lukaku per chiuderla prima, poi alla fine c'è riuscita, sostanzialmente Lautaro Martinez ha sbagliato diversi gol più facili, poi ne ha fatto uno un po' più difficile e lì la partita si è incanalata verso poi il finale che abbiamo visto. Ho visto un Inter buona, ho visto un Inter che però, vi ripeto, io continuo a vedere che in certi frangenti della partita non concretizza poi la mole di gioco che crea o comunque le occasioni che può andare a creare, a volte secondo me l'Inter ha ancora questo problema, poi quando giochi con squadre così ti va bene e fai delle goleade, quando sei in partite un po' più complesse il risultato resta in bilico fino alla fine. Stasera niente da dire, questa sera eri in casa contro il Benevento, hai avuto anche la bravura di sfruttare gli errori, penso a quello di Montipò che ha fatto veramente una papera su quel passaggio, su quella specie di costruzione dal basso. Se c'è una cosa che mi è piaciuta molto dell'Inter stasera è il centrocampo, vi ripeto, con Eriksen, ho visto un centrocampo molto dinamico, ma non solo Eriksen, anche Barella, ho visto un bel ass Eriksen, Barella, anche dei belli scambi tra Kimi e Barella, ho visto un buon dialogo, un buon dialogo anche fatto con una velocità ottima a centrocampo. Il Benevento raramente ha visto palla, veramente non sembrava di avere a che fare con una squadra che sapeva il suo compito, che comunque era capace di reggere anche l'urto e la strapotenza fisica dell'Inter, per esempio contro il Milan, a parte che i livelli erano diversi, ma ho visto più combattimento, anche a centrocampo ho visto una gara più aperta, fin tanto che l'inferiorità numerica, o comunque fin tanto che il Milan era in partito, ho visto una lotta più aperta. Questa sera è stato proprio un accaporetto, diciamo. Con questo Eriksen qua ci si può riproporre questo tipo di centrocampo, il problema, vi ripeto, è un po' sempre quello dell'anno scorso, nel senso che adesso questo Eriksen qua lo si prova come regista, questa sera ha fatto anche un'ottima partita, bisogna vedere però quali sono i margini di convivenza con Brozovic, se o gioca uno o gioca l'altro, specialmente sul medio termine. Sono anche curioso di vedere quali possono essere gli spazi di convivenza, non solo tra Brozovic ed Eriksen, ma soprattutto tra Eriksen e Sensi. Io penso che non sia una bestemmia dire che, al pari di forma, cioè quando saranno tutti e tre in forma e disponibili, o giocano Brozovic e Sensi, che assieme possono giocare, vedi, l'anno scorso, oppure gioca solo Eriksen. Che comunque, se gioca così, spesso in sta gara qui l'abbiamo visto anche più indietro rispetto ai difensori, per esempio, ha proprio questo ruolo qui, che magari non è vicinissimo alla porta, però può fare il regista. Io sentivo Conte che diceva che non intendeva provarlo come regista, però alla fine è stata... Può essere un'idea buona, nel senso che se tu giochi con il 3-5-2, e se non vuoi giocare con uno dietro le punte, una soluzione può essere questa, o può essere anche quella che vi avevo dato io, che però non è mai stata vista, di vederlo giocare come seconda punta. Anche quella potrebbe essere una soluzione, che poi si adattava anche a quello che avevamo visto a Verona. Non lo so perché quella roba che abbiamo visto a Verona, col 3-4-2-1, che a me piaceva anche, è stata accantonata quasi totalmente. Non lo so perché, addirittura non so neanche perché sia stata fatta in quel giorno lì, a dire il vero, se poi l'hai accantonata totalmente, pure quella poteva essere un'idea, volendo. Però si ripropone sempre il problema del centrocampo a due. Quindi un Inter che sbriga questa formalità qui, che aveva contro il Benevento, adesso avrà la Coppa Italia contro la Juve, la semifinale d'andata senza Hakimi e Lukaku, se non sbaglio. Il ritorno non so quando si giochi, se si giochi la settimana dopo oppure più avanti, e avrà appunto due assenze importanti l'Inter, e vedremo come sarà questa partita qui. In classifica comunque sono tutte lì, io penso che anche la Juve sia da mettere tra le squadre, che comunque per lo scudetto ci sono. Quest'Inter qui, vista stasera, vi ripeto, mi ha stupito in positivo per due cose, che sono la forza fisica, è un Inter che comunque pur spendendo tanto, pur correndo, pur giocando tanto, è in una buona condizione fisica, è un Inter autorevole ed è un Inter che ha fatto un bel gioco a centrocampo. Poi l'avversario era quel che era, per carità di Dio, però ho visto un Inter che ha avuto delle belle trame, delle buone trame a centrocampo. Questo mi è piaciuto e penso sia stato merito, soprattutto di Eriksen stasera e di Barella. La cosa che non mi piace, le cose che non mi piacciono, se devo indicare delle criticità, sono in certe fasi della partita, vedi dopo l'1-0, la difficoltà di concretizzare spesso, sembra che si debba aspettare sempre un qualcosa, sempre un episodio per concretizzare poi le numerose palle e gol che crei o comunque le occasioni che hai e non mi è piaciuto molto Persic, devo dire. Lui, ecco, ci sono alcuni giocatori che spesso ti fanno perdere una fase, ti fanno perdere il possesso, che talvolta rendono sterile il possesso. Perisic a volte è uno di questi. Hakimi è molto veloce ma non sempre indovina i tagli, pur essendo un giocatore che mi piace moltissimo. Queste sono le cose, secondo me, da migliorare, ma comunque in una squadra che secondo me è in salute, però come tutte ha delle criticità. La Juve ha le sue, il Milan ha le sue, l'Inter secondo me ha queste, quella soprattutto che deve essere una squadra un po' più ficcante, soprattutto nelle grandi occasioni, soprattutto quando hai avversari di livello, devi replicare non sto tipo di situazioni, perché anche stasera un po' hai faticato, ma quando è l'occasione, quando devi concretizzare, devi buttarla dentro. Questo è sostanzialmente quello che io intendo quando parlo dell'Inter e delle sue difficoltà a concretizzare. Detto questo, vado con le pagelle, allora Andanovic sarebbe un senza voto, perché è sostanzialmente inoperoso, senza voto. Skriniar voto 6, Ranocchia voto 6 più, dai era comunque nell'azione dell'autogol, Bastoni 6 più, Hakimi 6 più, Barella mi è piaciuto molto, gli do un 6 e mezzo, sempre voti dal 5 al 7, mi raccomando, Eriksen voto dal 6 al 7 di incoraggiamento, Gagliardini voto 6 più, Perisic voto 6 meno, perché comunque è un sad player, Lukaku voto, gli diamo dal 6 al 7, dai ha fatto doppietta, ha fatto due gol, non era, fino al primo gol non ha fatto sta gran partita, però poi ha fatto il suo, ha fatto due gol, stasera gli si può dare dal 6 al 7, Lautaro Martinez ha fatto il gol, un gol importante, perché vi ripeto, l'Inter in quel momento lì stava un po' soffrendo, il fatto di non concretizzare, però è stato un gol importante, che ha sbloccato la partita, gli do un po' meno, perché alcune le ha anche sbagliate, alcune le ha anche sbagliate, quindi gli do 6 e mezzo, Defray voto 6, Sanchez ha fatto l'assist, 6 più, Sensi 6, Vidal 6, Pinamonti 6, voto a Antonio Conte, ma un voto a Conte stasera gli diamo, gli diamo 6 e mezzo, alla fine è stata una partita d'ordine, una partita gestita tranquillamente, ma è rischiato, la formazione è quella, c'è anche stop plus di Ericsson Regista, quindi 6 e mezzo secondo me, un caro saluto, iscrivetevi tutti, e a presto.